buongiorno a tutti pescatori e benvenuti in questo nuovo video quest'oggi vi vado a illustrare tre canne per light e ultra light spinning con un budget inferiore ai 100 euro parliamo solo di canna se volete un video per delle combo scrivetelo qua sotto nei commenti per chi vuole approcciarsi oppure anche per chi comunque ci pesca parecchio e vuole un bel attrezzino che vanno a coprire tutte le esigenze aspettate non una per tutto tre in base alle vostre richieste ci tengo a sottolineare che tutte le canne sono state provate dal sottoscritto ci sono i video potete trovarli sul canale quanti ne volete testate al limite portate anche con pesci oltre 5 kg quindi sono canne affidabili che uso da un sacco di tempo anche due anni non so e ci faccio il campionato italiano sono canne che come dicevo prima vanno benissimo per il principiante anzi sono ottime perché partire con una buona base ti porterà sempre a migliori risultati ma anche per chi fa gare non sono da disprezzare dunque se è un amico che vuole prendersi una canna nuova mandagli questo video che gli sarà sicuramente utile per chi è nuovo del canale vi invito a darci un'occhiata anche perché escono un sacco di contenuti tra campionati italiani pesca in libera pesca in mare pesca in fiume tutorial dunque fate esplodere il tasto del mi piace e scrivetemi qua sotto qual è la vostra preda preferita da fare al light allora partiamo subito col precisare canne da light barra ultra light spinning ho preso una selezione di massimo 10 grammi non di più perché sennò diventa uno spin medio medio pesante quindi stiamo leggeri pesci che possono essere non so un ghiuzzo da 10 centimetri fino al siluro da metro e dieci non so una carpa quindi canne che non hanno problema a destrezzarsi in mezzo a tutto infatti le tre canne che vi farò vedere adesso vanno benissimo per pesca la trota pesca il cavedano reale perca carpa light rock fish in generale e via dicendo prima canna che vi faccio vedere oggi Seika Mimik conosciutissimo ormai nel mio canale tra l'altro prossimamente dovrebbe pure uscire un nuovo modello restyle completo canna solid tip ovvero cimino in carbonio pieno riportato che la rende estremamente sensibile ottima per pescare con piccole gomme due pollici comunque esche molto leggere e dove abbiamo bisogno di massima sensibilità nelle mangiate canna indicata per light rock fishing pesca comunque ai piccoli predatori con gomme quindi può essere la trota può essere il reale può essere il cavedano e vabbè light rock fishing in generale oppure anche fast fishing dove si possono prendere carpe e piccoli siluri in questa canna esistono varie grammature quella che secondo me ha più senso guardando le tre combo è la 1-6 grammi perché dopo le altre due avranno molto più senso ma anche in generale perché comunque con una canna solid non è come avere una canna tubular ovvero quelle diciamo classiche soprattutto con grammature più importanti l'azione rimarrà comunque ammorbidita sulla punta magari quando abbiamo 12 grammi potrebbe essere la grammatura massima che porta questa serie di canne comunque 12 grammi sarebbe meglio avere una tubular quindi la versione che vi consiglio è la 1-6 grammi esiste in varie metrature sta là a voi scegliere quale è meglio una via di mezzo buona che è quella che ho io infatti la 1-6 grammi 2,20 m che va benissimo per fare qualsivoglia rock fishing street fishing con piccole gomme infatti io ce l'ho già montato con un piccolo drop shot da 5 grammi quando abbiamo bisogno di sensibilità e pescare molto leggeri questa è la migliore scelta vedi un attimo seppure è mollata mannaggia mannaggia se volete utilizzare principalmente ovvero 70-80% l'eschi in gomma va benissimo perché essendo solid non possiamo dare la stessa impronta in movimento con una canna tubola quindi se volete fare una pesca 70-80% gomma che di solito è anche la più utilizzata dicendo che è la più semplice la più redditizia normalmente questa è la canna che fa per voi adesso andiamo a parlare della seconda canna sempre seica sempre due pezzi in modo da essere anche comodo da trasportare parliamo della wild spirit che è una veramente bellina adesso io qua ho la versione da 1,90m che va benissimo per quei piccoli fiumi vedo ve la faccio vedere molto carina compatta va benissimo in quelle situazioni in cui si usa principalmente hardbait cucchiaini spoon piccoli minnov jerkbait grammatura 0,8 grammi quindi ci permette di lanciare piccoli cranchettini piccoli minnov questa canna va benissimo per chi vuole approcciarsi in piccoli corsi d'acqua 10-20 metri piccoli fiumi rogge quello che è bella ricerca di persici cavedani trote con le esche rigide però non disdegna le esche in gomma si può usare diciamo che se quella era 70-80 gomma questa è 70-80 hardbait volendo si può usare a gomma principalmente una canna d'arte azione medium fast che ci permette di utilizzare senza problemi ami senza ardiglione tra l'altro è disponibile anche in altre grammature però questa diciamo è la canna perfetta se vogliamo andare non so in torrente a trote siamo in wading piccola comoda questa rispetto alla prossima canna che abbiamo ha un'azione un pochino più morbida che ci aiuta in tutti quei casi delle hardbait con questa azione qui ci permette di slamare molto meno pesce che però non ha paura anche di qualche pesce più grosso c'è ho preso un paio di luci senza problemi con questa cannina ha una bella schiena che assorbe quindi anche con pesci di taglia un pochino più importanti non ha problemi infine vi mostro l'ultima canna che questa tra virgolette ce l'ho da poco blackwater 2.0 sono passato dalla prima versione alla 2.0 canna leggermente rivisitata diventata ancora più sensibile rispetto al modello precedente senza abbandonare nessuna caratteristica questa canna è un po' una tuttofare si può pescare a gomma si può pescare a dartbait gomme non super iperleggere come nella prima canna nella Mimic si può pescare a drop shot un po' più pesanti con questa cioè se con la Mimic volete pescare fino a 5 grammi va benissimo con questa dai 5 ai 10 grammi non avete problemi rispetto a pescare a testina a testina questa è la canna perfetta è stata aumentata la sensibilità però se volete anche una canna per usare piccoli jerk VTD per cercare i vari predatori che può essere una lecciotta un piccolo serra sugarelli questa canna riesce a fare tutto la versione che vi consiglio maggiormente però è la 2 metri ai 10 il bello di questa canna in particolare è il fatto che la si può stressare tanto la si può piegare fino al manico e la ha il punto più bello perché quando abbiamo bisogno di recuperi impegnativi questa canna riesce inspiegabilmente a stroncare i predatori più incalliti questa canna dà il meglio di sé quando viene portata al limite perché con luci di discrete possiamo dire se non quasi importanti dimensioni ho avuto dei recuperi veramente facili anche con diametri sottili questa canna a differenza della precedente è azione fast extra fast con una grandissima riserva di potenza per chi ha questa canna e non l'ha ancora portata al limite vi consiglio ovviamente e se la prendete provate perché quando c'è bisogno di potenza questa te la dà questa tranquillamente si può andare a pescare con testina da 2-3 grammi e piccole heart rate da 4-3-4-5 grammi fino ai 10 dichiarati li tiene tranquillamente è una canna veramente fenomenale perché ancora di più la 2.0 perché è stata migliorata ulteriormente rispetto alla versione precedente dunque per questo video era tutto spero vi sia piaciuto se avete altre domande potete scriverle qua sotto che io vi rispondo a tutti se avete altre richieste per altri tipi di pesca ditemelo pure che faremo un altro video dunque ragazzi per questo video era tutto ciao a tutti grazie 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 a tutti.